Sono raddoppiati i numeri di Ricreazione, il progetto di educazione ambientale che SEI Toscana propone alle scuole. Siamo alla quinta edizione. Ricreazione è un progetto didattico educativo rivolto prima di tutto alle scuole primarie, ma anche da quest'anno alcune classi delle scuole secondarie, che ha l'obiettivo chiaro ed evidente di diffondere la cultura ambientale innanzitutto alle giovani generazioni. Siamo molto soddisfatti di questa quinta edizione che raggiunge numeri record quanto a classi che partecipano al progetto e soprattutto al numero di ragazzi coinvolti. Ormai è una vera e propria offerta didattica, integrata con i percorsi di studio ordinari delle nostre scuole e di questo siamo molto soddisfatti. Si tratta di far fare un salto di qualità culturale innanzitutto a tutto il nostro territorio. Decidiamo di partire dai più piccoli perché ovviamente sono più recettivi e comunque saranno i cittadini di domani che dovranno a pieno titolo affrontare queste enormi sfide ambientali che abbiamo di fronte e poi naturalmente speriamo che insegnando ai più piccoli poi siano loro a diffondere queste buone pratiche anche nelle rispettive case e quindi ai loro genitori. Quindi è un progetto ambizioso ma i numeri di quest'anno ci confortano molto che questa sia davvero la direzione giusta per vincere quelle sfide a cui facevo cenno. 13.000 studenti sui 46.000 della provincia rettina sono una fetta non irrilevante del percorso. Se poi teniamo conto che si tratta sempre di bambini e ragazzi del ciclo primario e della secondaria di primo grado diciamo che se non copriamo proprio tutto il panorama o tutti gli studenti della provincia rettina ci arriviamo molto vicini e quindi visti i temi che il progetto tratta questo per noi diventa un elemento fondamentale di penetrazione ma anche di educazione formale a una esigenza che in questo momento sta diventando sempre più prioritaria come capacità di comprendere l'ambiente che ci circonda e capacità per i ragazzi di adottare comportamenti positivi nei confronti di questo ambiente. Il prezzo va anteprimato nella partecipazione degli alunni a questo progetto un progetto formativo che si articola su più fasi i frutti chiaramente si vedranno nel lungo periodo diciamo che non so se sono correlate ovviamente a un meccanismo chiaramente di input da parte dei figli verso i genitori però con l'implementazione del nuovo sistema di raccolta i dati ufficiosi ci dicono se stanno raggiungendo importanti numeri di raccolta differenziata forse è anche questo come dire figlio di questo progetto diciamo educativo.